Buongiorno. Buongiorno. Il Consiglio dei Ministri oggi ha affrontato alcuni provvedimenti. Mi concentro in particolare nella comunicazione sul provvedimento più importante. Abbiamo approvato un decreto legge, quindi un decreto che riguarda il tema della cultura. È un decreto legge che interviene in molti campi e che dà il primo segno di inversione di tendenza che il nostro Governo vuole dare a quasi 100 giorni dalla nascita di investimento nel campo della cultura. Sapete quanto attorno a questo tema, anche nel discorso col quale otteniamo la fiducia alle Camere abbiamo insistito. La cultura è il cuore del nostro Paese e la possibilità di investire sulla cultura e di creare posti di lavoro, di creare competitività e produttività in questo campo, di attrarre investimenti, di attrarre turisti, è sicuramente una delle grandi priorità del nostro Paese e del nostro Governo. Ci sono molti problemi nel campo della cultura, dovuti ovviamente da problemi legati alle questioni economiche, di risanamento, alla mancanza di fondi, a problemi legati anche al fatto che su molti territori alcune questioni si sono trascinate nel tempo e quindi abbiamo ritenuto necessario un intervento, che fosse un intervento di largo impatto, che desse alcuni messaggi molto forti. I messaggi molto forti riguardano appunto il fatto che vogliamo investire sulla cultura e vogliamo soprattutto creare un legame molto forte tra giovani e cultura. Vedrete in particolare una misura che riguarda appunto una grande opportunità per i giovani nel nostro Paese nel campo della cultura. Cito i pilastri essenziali del provvedimento. Il provvedimento ha diversi articoli. Vedrete poi il testo finale perché è stato approvato ma ci sono alcuni aggiustamenti che sono in corso in questi minuti, in queste ore e che riguardano appunto alcuni interventi precisi. Ovviamente poi c'è anche la confezione della parte che ha a che vedere con le coperture, che poi vedrete in un secondo momento e che si sta finendo di definire in questi minuti. Gli interventi principali quali sono? Innanzitutto abbiamo completato l'intervento che avevamo già iniziato e compiuto all'inizio dell'attività di governo, cioè abbiamo rifinanziato il tax credit per le attività di produzione cinematografica. Un intervento che completa il parziale finanziamento che era iniziato con appunto le scelte che il nostro governo aveva fatto un paio di mesi fa, ma che sapevamo tutti essere insufficienti, soprattutto per dare il senso della stabilizzazione e della direzione. Quindi il rifinanziamento che riguarda l'anno prossimo, riguarda anche il 2015, quindi è una stabilità di questo intervento che riteniamo molto importante per far sì che il nostro Paese continui ad attrarre produzioni cinematografiche che stanno dando grandi opportunità di lavoro e che crediamo essere una delle questioni sicuramente più interessanti e più importanti, uno dei casi di successo italiani degli ultimi tempi, credo che sia un fatto sicuramente utile e molto importante. Poi c'è questo intervento che abbiamo titolato 500 giovani per la cultura, è un intervento che ha a che fare con, per l'appunto, un'opportunità di lavoro offerta a 500 giovani per un tempo determinato, questa opportunità appunto, 500 giovani per un periodo determinato di tempo, che ha a che vedere con lo sviluppo dell'attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese. Come sapete, purtroppo, questa che dovrebbe essere la precondizione per fare tutto il resto, è un'attività ancora oggi non compiuta. Quindi è il tentativo di unire nuove tecnologie, digitalizzazione, a un campo che è la base poi essenziale della possibilità nostra di fare attorno al grande patrimonio culturale italiano tutto ciò che in termini di attrazione e di sviluppo può essere fatto, può essere compiuto. Il primo articolo del decreto legge si occupa di alcune situazioni particolari, ma ne emerge una soprattutto, che voglio citare, che è quella della valorizzazione di Pompei. Questo è un intervento, il decreto legge, che appunto sul tema Pompei dà una grande risposta al mondo, perché attorno a Pompei credo noi abbiamo una responsabilità, che è una responsabilità che in parte il mondo ci carica sulle spalle, la responsabilità di rendere fruibile, di rendere assolutamente valorizzato quello straordinario patrimonio che è il giascimento culturale di Pompei. Ovviamente attorno a questo noi contiamo che questa valorizzazione dia importanti risultati anche in termini poi di attrazione turistica. La cosa non riguarda solo Pompei, riguarda anche altri importantissimi siti, come quello della Regia di Caserta, il Polo Museale di Napoli. Credo, crediamo le residenze borboniche, crediamo che attorno a questi temi si possa dare un importantissimo messaggio. È un messaggio intimamente collegato naturalmente con il sud del nostro Paese, quindi un messaggio che riguarda la valorizzazione, credo, dei luoghi forse più importanti e simbolici del nostro Mezzogiorno. Attorno al tema museale ci sono anche alcuni altri interventi, cito due titoli molto importanti perché sono simbolici, credo molto simbolicamente importanti. C'è un intervento a favore dei nuovi uffizi di Firenze, è un intervento di sviluppo, di rilancio, ed è un intervento di sviluppo che riteniamo molto importante in prospettiva, e un intervento per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah. Anche questo rappresenta un impegno importante che ci eravamo assunti e che trova dentro questo decreto legge una realizzazione. Ci sono anche, c'è un articolo specifico che riguarda i centri di produzione di arte contemporanea e quindi la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea. E poi voglio citare, mi fermo qui, poi passerò la parola al Ministro Brai, che insieme al Ministro Carrozza, che è stata coinvolta per la parte che ha a che vedere con la formazione, in particolare dei 500 giovani per la cultura, e col Ministro Chiang, che come sapete è titolare oggi anche delle deleghe sulle politiche giovanili, il Ministero delle politiche giovanili, che è stato coinvolto per quanto riguarda sempre questo importante progetto sui 500 giovani per la cultura, per la digitalizzazione e la catalogazione del patrimonio culturale del nostro Paese. I loro tre hanno lavorato su questi temi, ovviamente il Ministro Brai è il Ministro proponente che ha il playmaker di questa operazione. Cito l'ultimo tema che voglio citare, il provvedimento ha al suo interno un capitolo, che è probabilmente il capitolo più importante, sicuramente il capitolo più corposo dal punto di vista poi dei commi e dei paragrafi. sapete che nei mesi scorsi, in particolare attorno a alcune situazioni di particolare difficoltà, e quando dico difficoltà uso un eufemismo, che si erano sviluppate attorno a alcune fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, cito ovviamente il caso del crack del maggio fiorentino, abbiamo valutato che fosse necessario un intervento complessivo attorno al tema delle fondazioni lirico-sinfoniche. Sapete che questo tema delle fondazioni lirico-sinfoniche è un tema che negli anni si è avvitato in una condizione molto spesso di grave difficoltà, di difficoltà economico-finanziarie, ma di grandissima difficoltà proprio a muoversi, a essere in grado di garantire le stagioni. Fa parte probabilmente di quegli aspetti della vetrina del nostro Paese più importanti nel mondo, il fatto che le fondazioni lirico-sinfoniche funzionino, siano stabilizzate, siano stabili e non abbiano continuamente l'acqua alla gola, o non siano costrette ogni momento a dover rincorrere il rischio dei fallimenti. E quindi l'articolo di questo decreto legge crea una condizione che salva le fondazioni lirico-sinfoniche e dà una prospettiva anche qui di stabilità che ritengo, riteniamo assolutamente essenziale, proprio perché fa parte di questo importantissimo capitolo di raccontare del nostro Paese ciò che il nostro Paese più di ogni altra cosa può raccontare bene, quindi in questo caso il grande patrimonio musicale, sapendo che da tutto il mondo si aspettano che questa sia una delle caratteristiche vincenti dell'Italia. E credo quindi molto importante anche questo intervento di salvataggio delle fondazioni lirico-sinfoniche e di indicazione di una prospettiva di fondo che io credo molto importante anche qui per rilanciare il sistema nazionale musicale di eccellenza. Come vedete il provvedimento è un provvedimento a largo raggio che interviene a tutto campo per dare un grandissimo segnale per noi, per il nostro Paese, per il nostro Governo, la cultura rappresenta sicuramente una delle carte più importanti che noi vogliamo giocare per l'immagine del nostro Paese, per l'attrattività del nostro Paese e per i posti di lavoro. Crediamo anche, e vorremmo, troverete alcuni accenni dentro il provvedimento, che la discussione in Parlamento attorno a questo provvedimento sia una discussione che si apra anche al tema annoso e complesso della partecipazione dei privati alla cultura. Quindi l'appello è al Parlamento perché il Parlamento, in sede di conversione di questo decreto, e questo discorso lo faccio in linea con quanto avevo annunciato al question time della Camera tre settimane fa, quando ho partecipato al question time della Camera, rispetto a una delle domande, delle interrogazioni che fu svolta appunto alla Camera, la richiesta di far sì che tutto il lavoro che in Parlamento si sta facendo in materia di partecipazione dei privati allo sviluppo della cultura trovasse un veicolo nel quale discutere. Questo provvedimento può essere un veicolo nel quale in Parlamento anche la discussione attorno a questi temi può trovare alcuni punti di caduta e alcuni elementi sicuramente di discussione. Siamo aperti con il Parlamento a valutare in sede di conversione quali elementi ulteriormente migliorativi qui possono essere introdotti. Mi fermo qui, do la parola al Ministro Braini. Buongiorno a tutti. Erano quasi trent'anni che un Governo non dedicava un intero decreto alla cultura. E' il segno più evidente che il Presidente del Consiglio, che voglio ringraziare, ma tutto il Governo, Maria Chiara e Cecil, che sono al mio fianco, hanno lavorato in questi mesi convinti che dalla cultura si può ripartire, si può ripartire per creare crescita, sviluppo, posti di lavoro, per dare un futuro a questo Paese e soprattutto per credere nelle nuove generazioni e in quelle che sono le loro aspettative rispetto alle scelte politiche del Governo. Quindi è una scelta politica molto, molto chiara. Siamo partiti da Pompei, come dice giustamente il Presidente, perché Pompei deve essere il simbolo di quello che siamo capaci di fare per valorizzare uno dei più grandi beni culturali che non solo è il nostro Paese ma è il mondo. Questo vuol dire che dobbiamo assolutamente rispettare gli impegni presi per concludere il cronoprogramma entro il 2015, ma dobbiamo fare di Pompei l'esempio migliore che cultura e turismo possono dare al Paese una grande opportunità di crescita. Per fare questo abbiamo deciso che ci sarà un'unità grande Pompei che verrà stabilita per tutte quelle che sono le iniziative di coordinamento fuori dal sito archeologico, quindi tutte quelle strutture che devono migliorare l'accessibilità dell'area di Pompei. abbiamo deciso che ci sarà un responsabile che sarà un direttore generale che garantirà anche il rispetto di tutti quegli impegni relativamente ai bandi che dovremo portare a compimento rispetto agli impegni europei. Abbiamo deciso che Pompei avrà una sua sovrintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabbia e nello stesso momento abbiamo deciso di fare entrare Caserta le dimore borboniche nel polo museale di Napoli. Faremo questo con una grande attenzione al turismo a fare in modo che ci siano tutte quelle strutture che consentano realmente di fare di Pompei l'esempio più chiaro e trasparente di chi vuole investire nel turismo e fare del Mezzogiorno d'Italia un esempio positivo del nostro Paese. Come ha detto sempre il Presidente siamo convinti che in questo legame inscindibile ormai tra turismo e cultura dobbiamo portare a compimento alcuni grandi musei del Paese e quindi abbiamo deciso di trovare le risorse per portare avanti il lavoro degli Uffizi e del Museo della Shoah di Ferrara. ma abbiamo anche deciso un finanziamento per alcune zone di emergenza del Paese alcune chiese che in questo momento hanno subito dei danni sui quali dobbiamo al più presto intervenire per salvaguardare il patrimonio artistico italiano. Per fare questo abbiamo bisogno di sapere che cosa possediamo e porteremo avanti questo progetto ambizioso di catalogazione e di inventario del nostro patrimonio faremo questo valorizzando le strutture del Ministero dei Beni Culturali quindi l'Istituto Centrale del Catalogo le sovintendenze saranno tutte coinvolte ma sarà coinvolta soprattutto l'Università perché valorizzare l'arte vuol dire fare ricerca sul nostro patrimonio artistico e devo molto ringraziare il Ministro Carrozza per tutto il sostegno che ci ha dato e ci darà in questo progetto progetto che prevede l'impegno di 500 laureati che saranno selezionati e che potranno fare un primo tirocinio di 12 mesi. Abbiamo rivolto poi una particolare attenzione a quello che è il valore del cinema e dello spettacolo per il nostro Paese convinti che nel cinema c'è una parte importante del patrimonio e della memoria di questo Paese. Quindi il Presidente del Consiglio si è impegnato a rispettare un impegno che avevamo preso e abbiamo quindi garantito tutto quanto la cifra necessaria per il tax credit e per stabilizzarlo nei prossimi anni. Ma abbiamo fatto di più abbiamo introdotto un tax credit sulla musica ispirato a quello del cinema perché crediamo che dobbiamo far fronte anche alla crisi del mercato musicale ma soprattutto vogliamo promuovere le mille iniziative che ci sono in Italia e che sono nate i giovani artisti e i compositori emergenti. Abbiamo poi fatto la grande riforma come dire, un po' di emergenza sulle lirico-sinfoniche perché come sapete avevano dei problemi strutturali seri di indebitamento e abbiamo fatto questo ispirati alla voglia non solo di procedere a un piano triennale che metta in salvaguardia questo che è uno dei patrimoni più belli il bel canto è una delle tradizioni storico-artistiche più importanti di questo paese ma abbiamo fatto questo salvaguardando i posti di lavoro studiando appunto un meccanismo che consenta di utilizzare al meglio le risorse di questo settore importante della cultura abbiamo fatto questo anche con dei criteri rigorosi che portino davvero queste fondazioni ad un pareggio di bilancio siamo poi passati ad affrontare il problema della governance di queste riforme liriche garantendo l'importanza della presenza delle autonomie all'interno delle fondazioni liriche quindi garantendo che i sindaci potranno presiedere queste fondazioni ma che il meccanismo di governance dovrà avere momenti di controllo rigoroso per fare in modo che non si ripeta più una situazione di accumulo di debiti come è successo in questi anni ma abbiamo colto anche un invito e un suggerimento del Parlamento che rispetto a quelle che sono le risorse verso gli istituti di cultura e le pubblicazioni c'era stato richiesto di introdurre criteri di trasparenza nell'assegnazione di queste risorse lo abbiamo fatto convinti che la trasparenza e la scelta del merito sarà uno dei punti di forza nelle politiche che faremo verso la cultura abbiamo valorizzato per quello che siamo convinti debba essere un punto importante quella che dovrà essere da oggi in poi una scelta di indirizzo delle risorse coordinata da politiche culturali il più possibile fatte insieme a quelli che sono gli esperti e quindi il ministro potrà contare su un numero di esperti che andremo a definire insieme su quelle che sono le varie specializzazioni e le materie che il ministero deve affrontare abbiamo poi affrontato il tema molto diffuso in altri paesi europei ma anche in alcune realtà con successo che è quello del crowdfunding cioè della possibilità di donazioni fino a 5.000 euro in favore della cultura abbiamo fatto questo senza oneri amministrativi con la garanzia della destinazione di questi fondi e con la piena pubblicità e trasparenza di tutte le donazioni che riceveremo dal 2014 l'economia restituirà ai musei quelli che sono gli introiti diretti dei biglietti di tutti i visitatori che vengono in Italia o che visitano le città italiane perché questo ci consentirà di tenere aperti sempre i musei e ci consentirà sicuramente di poter utilizzare le risorse nel modo più diretto e disponibile al miglioramento dei singoli musei abbiamo infine valutato la possibilità di intervenire come avevo detto su alcune situazioni di emergenza voglio ricordarne alcune che mi sembrano di particolare importanza come la chiesa di San Giorgio a Ferrara che è chiusa da molti anni che dobbiamo assolutamente riaprire perché è uno dei luoghi più importanti del nostro patrimonio storico artistico e del cimitero di Campo di Fossoli perché ci sembrano due esempi tra gli altri di interventi in cui il governo presta attenzione alla valorizzazione di questo patrimonio e vuole che questa memoria importante del nostro paese si proietti nel futuro io devo ringraziare ancora una volta il Presidente del Consiglio perché ha seguito ora dopo ora la nascita di questo decreto ha creduto realmente che noi dobbiamo immaginare un futuro del nostro paese dove la cultura e il turismo avranno una grande importanza c'è l'impegno a dedicare i prossimi sforzi a mettere insieme un pacchetto di importanti provvedimenti proprio sul turismo e un ringraziamento forte va a tutti i ministri e in particolare a Maria Chiara e a Cecil che hanno creduto che questa svolta fosse così necessaria grazie grazie io proprio a Cecil e poi a Maria Chiara do la parola per le parti che le riguardano sì anch'io comincio con i ringraziamenti il primo è quello che il governo ha voluto dare un segnale molto importante quella di mettere al centro anche del nostro programma la cultura al ministro Brai anche per il lavoro svolto i contenuti di questo decreto ma anche proprio il fatto di aver centrato questo punto sulle politiche giovanili quindi l'importanza e il coinvolgimento dei giovani all'interno della società attraverso la cultura questo è un punto fondamentale per il protagonismo dei giovani e il protagonismo dei giovani attraverso la cultura ma che in questo momento attraverso il decreto non lo troviamo anche con la concretezza di progetti di possibilità di opportunità per cominciare a far crescere anche una futura classe dirigente che attraverso il protagonismo la partecipazione è piena in tutti i settori e in questo caso si può dire che la cultura ci deve accompagnare in questi anni tengo a sottolineare quello che è l'articolo 2 quindi un punto fondamentale di questo di questo decreto che è anche quella di poter allinearsi a quelle che sono le linee di attivazione a livello europeo per quanto riguarda la digitalizzazione quindi l'impiego dei giovani nella catalogazione e anche nell'inventariazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano questo è un passo molto importante quindi che ci vede protagonisti come politiche giovanili ma che vede anche un lavoro interministeriale che è uno dei punti fondamentali su cui noi ci stiamo attivando anche con questo governo grazie Maria Chiara io tengo a ribadire che questo provvedimento è un'occasione importantissima per legare ancora più strettamente il mondo dell'università degli enti di ricerca al mondo della cultura anche culturalmente è un passaggio in cui noi ribadiamo che la cultura e quindi il mondo dei beni culturali la loro conservazione la loro catalogazione rappresenta un elemento straordinario per la ricerca fra pochi giorni noi lanceremo il piano nazionale della ricerca che è un atto dovuto e l'Italia confermerà a livello europeo la sua intenzione di mantenere una leadership nel campo della ricerca nei beni culturali nel cultural heritage che è un settore importantissimo l'Italia se ne è fatta promotrice e ne vuole avere e mantenere una leadership perché crediamo che questo sia anche un elemento importante per la rinascita del mondo delle start-up delle imprese innovative e per fare di questo settore davvero un motore per lo sviluppo soprattutto per i giovani italiani noi abbiamo tantissimi laureati e studenti nelle materie del campo delle scienze umane nei beni culturali e qui ci sarà un'occasione da mille giovani tirocinanti nei servizi per la cultura nell'ambito del fondo straordinario che c'è in questo provvedimento quindi un'attenzione ai giovani ai tirocinanti sono tutti gli elementi tipici appunto del governo Letta che ha voluto ribadire l'importanza del tirocinio per gli studenti e poi abbiamo 500 giovani coinvolti in questo aspetto della digitalizzazione elemento essenziale sia per l'agenda digitale sia per la digitalizzazione elemento essenziale per la ricerca perché costruire questo patrimonio digitale che rappresenta i nostri beni culturali poi è l'infrastruttura più importante per poter effettuare ricerca in questo settore quindi penso che il ministro Brai oggi sia l'attore più importante ha fatto davvero un bel lavoro però la strada inizia adesso bene se sono domande buongiorno sì sì certo Livia Michilli Sky TG24 oggi quindi il governo vara questo nuovo decreto che nei contenuti che ci avete un po' illustrato sembra avere anche un respiro diciamo di medio e lungo periodo però fuori le dichiarazioni degli esponenti politici di PD e PDL stanno cominciando a salire di tono quindi Presidente lei pensa teme che alla fine il governo rischi di restare un po' schiacciato o che ci sia il rischio di un logoramento lento lei che mi sembra abbia sempre detto di non voler andare avanti a tutti i costi e poi se è possibile una seconda domanda i due sottosegretari Biancofiore e Miciche avevano anticipato di voler rimettere il loro mandato nelle mani di Berlusconi i ministri i loro ministri diciamo o comunque lei ne sa qualcosa in più se ne è per caso parlato in consiglio dei ministri qual è stato anche il clima se le posso chiedere di questa riunione di governo su questa seconda questione non se ne è parlato non ho notizie sulla prima questione come avete visto l'attenzione alle questioni concrete e l'attenzione soprattutto alle realizzazioni nell'interesse del paese rimane per quanto mi riguarda la stella polare sono assolutamente consapevole del momento delicato politicamente l'ho detto io sono tra quelli che mette davanti a tutto l'Italia se c'è chi vuole mettere davanti altre priorità io penso che in questo momento sia importante invece avere con chiarezza qual è l'ordine delle priorità prima di tutto viene il paese prima di tutto viene l'Italia poi vengono gli altri interessi che non possono che essere considerati come interessi subordinati a questo interesse che è superiore rispetto a tutti quindi io spero che prevalgano gli interessi generali per il bene del paese per il bene dell'Italia non gli interessi di parte sono anche assolutamente convinto che questo accadrà perché quando si guarda nel merito le cose le questioni ci si rende conto che oggi il paese ha bisogno ha bisogno di essere governato ha bisogno di risposte queste sono alcune delle risposte di cui appunto il paese ha bisogno oggi ne abbiamo messa in campo qualcuna di queste quindi io ripeto spero che prevalgano gli interessi generali l'interesse dell'Italia l'interesse del paese io lavoro perché prevalga l'interesse dell'Italia naturalmente rispetto alla sua domanda l'interesse dell'Italia non è un logoramento quindi non considero che il logoramento e che il continuare a tutti i costi faccia parte dell'interesse del paese l'interesse del paese vuol dire lavorare e lavorare bene come noi stiamo facendo come io sono convinto saremo in condizione di continuare a fare Buongiorno Paolo Conti Corriere della Sera tre domande tecniche al Ministro Brai la prima è se voi dopo questa decisione su Pompei prendete contatto con l'UNESCO che aveva manifestato forti preoccupazioni e quindi per dimostrare che vi state muovendo seconda domanda essendo Pompei zona a rischio di malavita esiste un filtro per l'assegnazione di lavori che voi avete in qualche modo messo a fuoco per evitare queste infiltrazioni terza domanda sugli antivirici che come ne sa Ministro in Italia sono tra quelli che in Europa sono quelli che producono meno e hanno minore quantità di repliche nell'anno se voi in questo contesto pensate di allineare ai parametri europei gli antivirici grazie sì certamente a Pompei lo abbiamo già fatto nell'audizione che abbiamo fatto con la Commissione Sedenato quando abbiamo fatto la visita a Pompei era presente anche il Presidente dell'UNESCO Italia e abbiamo concordato che le scelte le linee strategiche saranno condivise abbiamo già un comitato di garanzia scusate e di trasparenza per quelle che saranno tutte le fasi dei bandi con cui ci siamo impegnati ad utilizzare i fondi disponibili è presieduto dal Prefetto e la cooperazione tra le lirico-sinfoniche per fare in modo che venga mantenuto alto il livello di qualità e venga diffusa il più possibile questa grande tradizione italiana anche all'estero è uno dei requisiti su cui tutti gli attori della riforma dovranno impegnarsi Buongiorno Presidente sono Enrico Agostini di Regno 24 volevo chiederle quando è nato il suo governo era chiaro che si sarebbe arrivati a questo giorno e a questa sentenza quindi era un fatto che probabilmente anche il Partito Democratico aveva tenuto in conto ma questa sentenza però oggi cambia qualcosa cioè prova c'è un nuovo imbarazzo per essere al governo con una persona che comunque è stata condannata per frode fiscale nel momento in cui lei ha lanciato una forte battaglia contro l'evasione fiscale ripeto quello che ho detto prima io sono assolutamente convinto che oggi siamo in una condizione in cui ognuno deve assumersi le sue responsabilità chiaramente di fronte a tutti quindi per quanto mi riguarda ripeto deve prevalere l'interesse del Paese l'interesse del Paese è fare le cose tutte anche la lotta all'evasione fiscale e farla con la massima determinazione come abbiamo intenzione di farla ma sono convinto che ognuno oggi tutti i partiti sia quelli dell'opposizione sia a maggior ragione quelli che sostengono il governo devono assumersi responsabilità e fare delle scelte che riguardano il futuro io penso ripeto il programma di governo è qui e la nostra determinazione a fare le cose come avete visto stamattina è assolutamente forte e confermata prego buongiorno Nadia Pietrafitto dell'agenzia La Press diceva ha rivolto un appello al Parlamento per quel che riguarda la gestione l'affidamento anche ai privati per quel che riguarda la cultura è previsto proprio un affidamento di alcuni monumenti ai privati della gestione no su questo tema voglio chiarire meglio siccome il provvedimento è un provvedimento che ha alcuni capitoli tra questi capitoli è stato citato anche il tema delle donazioni dei privati come il ministro Brai ha fatto ho semplicemente legato il provvedimento alla discussione che io ho avuto in Parlamento quando mi è stata fatta la domanda su quei temi e quindi ho detto non è un appello al Parlamento dico al Parlamento che la discussione sulla conversione in legge di questo decreto legge se il Parlamento lo vorrà può essere l'occasione per affrontare anche temi di ulteriore approfondimento del ruolo dei privati nel campo della cultura stop Andrew Fry di Bloomberg News due domande la prima sui ministri in particolare quella del PDL e in particolare quella del deputato Alfano se nelle sue conversazioni con loro se lei ha percepito qualche resistenza al programma di governo e se volevano spostare l'attenzione sui vicendi giudiziari o se sono focalizzato tanto quanto lei sul lavoro di governo secondo sulla questione di incandidabilità che verrà al Senato se lei come un leader del PD ha un'opinione su come si deve votare su quella questione dunque su questa seconda questione penso che bisogna semplicemente applicare la legge da quello che ho capito non ci sono elementi di discrezionalità sulla prima questione la discussione del Consiglio di Ministri è stata una discussione sui temi dell'ordine del giorno assolutamente concentrata su questi temi tutti i ministri hanno partecipato i ministri sia politici sia ministri tecnici i ministri politici del PD del PDL di scelta civica ognuno ha dato il suo contributo sono stati contributi anche molto positivi e costruttivi il decreto è stato anche migliorato nella discussione quindi io ho visto come sempre una partecipazione di tutti molto convinta e molto positiva questo ci rende possibile oggi presentare un testo al Paese e al Parlamento di un decreto che rilancia sulla cultura e che secondo me dà un segnale fortissimo al Paese del quale io sono molto contento molto convinto perché è un segnale di inversione di tendenza assolutamente profondo forte unico che dà il segno di una strategia di lungo periodo e che ci fa dire che la cultura è per noi una delle bandiere principali del nostro governo e naturalmente è una bandiera del nostro Paese l'ultima domanda domanda per il Ministro Brae Marzio Fatucchi del Corriere Fiorentino anzi due in realtà la prima riguarda della Fondazione di Crosinfoniche eh sì oggi benissimo fatti penso mi sono già arrivati i messaggini di ringraziamento da parte della città e si parla di un commissario straordinario che gestisca questo fondo però lei ha parlato anche di una modifica della governance della futura delle fondazioni sarà una fase intermedia cioè fino a che le fondazioni saranno in crisi rimarrà questo commissario straordinario e sarà lui stesso a guidare le fondazioni oppure ci potrà già essere come nel caso del invece il ritorno del consiglio di amministrazione sovrintendenza eccetera la seconda domanda invece riguarda la bigliettazione ehm si dice eh che gli introiti della venta di biglietti io prima avevo capito che ritornavano ai musei stessi quindi alle sovrintendenze qui invece leggo che saranno riassegnati direttamente al MIBAC cioè tornano con una forma di autonomia oppure ritornano al Ministero grazie sulle lirico-sinfoniche eh noi abbiamo dovuto affrontare perché come sapete c'è un problema anche di regolamento che era stato respinto dal Consiglio di Stato e di nuovo regolamento abbiamo dovuto accennare ad alcune di quelle che saranno le linee eh di una riforma che il Parlamento dovrà affrontare eh il commissario ovviamente eh dovrà interfacciarsi con quelli che sono i commissari perché le fondazioni appunto che sono in crisi hanno dei commissari è chiaro che alla fine del periodo di risanamento tornerà eh una governance di gestione normale eh sono convinto che il Parlamento si impegnerà a scrivere quella che sarà la migliore eh riforma per rendere governabili eh le nostre fondazioni eh il ricavi dei biglietti andranno al Ministero che li distribuirà sicuramente in una insomma in un progetto che dovremmo mettere a punto che terrà conto delle esigenze dei singoli musei ma anche di alcune situazioni di emergenza io vorrei chiudere eh consentitemi eh ricordando una delle persone che per primo mi ha spinto a valorizzare questo lavoro è la cultura in Italia che era Umberto Bile che era il conservatore della biblioteca di Girolamini che è morto due giorni fa e lo dico per il grande lavoro che ha fatto per preservare uno dei patrimoni più belli del nostro paese grazie 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 grazie